Benvenuti a tutti ad un nuovo episodio di Est & Guest, io sono Carlo e davanti a me c'è un ospite molto speciale che ha caratterizzato alcuni dei momenti più belli della mia crescita, sportivamente e non, è avvocato, commentatore, opinionista, storyteller e poi se c'è da aggiungere qualcosa lo lascio al mio ospite, con noi oggi Federico Buffa e noi abbiamo questo applauso artificiale che accompagna sempre perché purtroppo non avendo una platea dobbiamo crearcela un po' da soli, benvenuto Federico, apprezzo la creatività, un grandissimo onore per me e per noi averti qua a questo tavolo, un piacere essere qui, dimmi tutto, allora partirei in realtà, guardami negli occhi quando mi parli, partirei in realtà dal presente o dal futuro che sta per arrivare, quindi dal tuo spettacolo, nostro, non è mai il mio spettacolo, perché c'è sempre un team e la squadra è sempre importantissima, ma c'è sempre un team molto più importante di me nello spettacolo, quindi a posto, la milonga del football, vorrei partire innanzitutto, se ce lo puoi raccontare, spiegare e vorrei fare una riflessione all'interno di questa prima domanda, è uno spettacolo che parla di Argentina e dove abbiamo notato anche un dualismo con l'Inghilterra, gli inglesi raccontano di aver inventato il gioco, lo hanno inventato effettivamente e l'Argentina dice noi abbiamo inventato l'amore per quel gioco lì, quindi si parla di creolizzazione e di dualismi, quindi la domanda è un po' come nasce questo spettacolo e che dualismi ci sono all'interno di queste due sfere? Allora, lo spettacolo è un viaggio nel novecento argentino, tutti i novecento sono stati all'interno del secolo breve interessanti, quello argentino è molto particolare, è successo letteralmente di tutto e continua a succedere tutto in Argentina, in questi giorni si stanno tenendo delle elezioni diciamo così un po' controverse, l'Argentina e la zona del Rio della Plata sono luoghi dove il calcio è stato per la prima volta considerato diversamente da come lo consideravano gli inglesi, gli inglesi hanno sempre ritenuto che fosse uno sport per dilettanti, originariamente non c'era l'arbitro perché un gentiluomo inglese sa se è fallo o non è fallo, il calcio non ha quasi cambiato le regole da quando è stato inventato regolarmente parlando nella metà dell'ottocento a Sheffield, ha cambiato pochissime regole, ha cambiato una regola sul fuorigioco e poi i quattro semiubriaconi che rappresentavano le quattro nazioni britanniche che stavano nel nord e a cui ogni tanto si chiedeva scusi potremmo evitare per esempio di dare il rosso al portiere in caso del rigore no, col Glenlivet in league, dice no 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 si continua così, adesso li hanno un po' esautorati e l'ultima novità è che puoi fare la costruzione da dietro perché non devi più per forza far uscire la palla dall'area ma in 170 anni non mi sembrano tante regole cambiate assolutamente e quindi il calcio è immobile ma non è immobile emotivamente specialmente nella zona del Rio della Plata e lì è stato inventato l'amore per il gioco durante lo spettacolo mi diverto a far notare che gli argentini avevano le curve negli anni 40 mentre da noi sono arrivate alla fine degli anni 60 che gli inglesi hanno dato i nomi delle squadre cinque delle super sette hanno un nome inglese ma non sono mai riusciti a colonizzare l'argentina di fatto posseggono soltanto quegli scogli chiamati Falklands o Malvinas non sono mai riusciti a prendersi l'argentina ma che l'argentina a metà dell'ottocento grande come adesso con i confini di adesso aveva un milione di abitanti e quindi ha chiesto a tutto il mondo possibilmente quello europeo di venire il primo quarto d'ora dello spettacolo è basato sull'immigrazione italiana che è un pezzo fondamentale della nostra storia, della loro storia assolutamente l'argentina è composta da spagnoli che parlano italiano e che vorrebbero fare i francesi non è mia, è di Borges e direi che è perfettamente centrata e il football è una cifra enorme del loro stare al mondo allora io ho pensato, avendo un amore sfrenato per l'argentina che è un paese che ti dà tanto e ti toglie tanto a fare una storia del novecento in cui ci fosse un collegamento tra tutti e tre e il collegamento è che Renato Cesarini che è nato in Italia ma ha un anno andato in Argentina è l'uomo che ha scoperto Sivori che è il giocatore a cui Maradona si è ispirato di più pur non avendolo conosciuto direttamente calcisticamente ma è anche quello che lo va a consolare quando lui viene escluso dal Mondiale del 78 a cui lui teneva tantissimo cosa di cui non ha mai perdonato Cesar Menotti che l'ha tenuto a casa volevo trovare una linea tra tutti e tre ho scritto male era la prima volta che scrivevo sempre io solo io ho scritto malissimo perché ho scritto in maniera fluviale perché ero emozionato e quando... che ci sono in mezzo le emozioni è tutto più difficile per qualsiasi cosa perché ti sembra di scrivere poco invece poi quando l'abbiamo visto ho detto guarda non si può fare uno spettacolo teatrale con una scrittura così e io ho detto giusto e quindi togli ne... e ho tolto due quinti i due quinti sono spariti spagliati subito falciati no non subito perché quando ho debutato a Milano c'erano ma poi li abbiamo tolti perché era troppo grande non si poteva tenerlo da nessuna parte ti scappava sempre per comodità insomma diciamo per comodità quindi se mai verrai a vederlo vedrai in una versione molto molto ridotta rispetto al pensiero al flusso al flusso che era presato era proprio un flusso ma è proprio centrato denudandomi perché io non sono capace di scrivere e quindi è andata così però è molto lusinghiero farlo mi permetto di darti del tu anche per comodità della conversazione e mi hai menzionato prima un aspetto molto importante perché giustamente mi eri darbito dicendo lo spettacolo non è mio è nostro che valore ha avuto la squadra che valore ha la squadra in maniera più aperta e che valore ha avuto la squadra per il tuo spettacolo no non solo è nostro il vostro spettacolo non solo è nostro io sono in scena come mi è successo in quasi tutti gli spettacoli che ho fatto perché era un sogno della mia vita di andare in scena a teatro ma non avrei mai pensato che questo potesse succedere uno degli rammarichi principali che ho nella mia vita che mio padre che mi ha portato al teatro 300 volte non ha fatto in tempo a vedermi su un palco dove io non so stare perché non sono un attore né lo voglio essere né lo posso essere però mi cuciscono sempre attorno delle parti dove io posso essere più o meno a mio agio e io mi devo arrangiare lo spettacolo vive di musica è uno spettacolo con una fortissima accentuazione di musica e quindi fortunatamente c'è il maestro Alessandro Nidi che sin dal primo giorno in cui sono stato in scena era di fianco a me che suona magnificamente c'è una cantante e io riempio gli spazi tra quello che cantano e suonano loro è quello che devo dire io e provo a farlo in maniera dignitosa ma si capisce chiaramente che io sono appassionato di quello di cui sto parlando questo è assolutamente innegabile la percezione che abbiamo è che il palcoscenico è un po' il tuo campo da gioco come se fosse il tuo rettangolo verde e che tu applichi comunque una disciplina nella tua preparazione e la domanda era come ci si prepara e come ti sei preparato come ti prepari a questi interventi a questi spettacoli a questi racconti effettivamente qual è il tuo processo mentale il tuo processo creativo ma anche il tuo processo performativo che poi ti porta effettivamente a giocare la tua partita lì nel tuo rettangolo verde è il copione sempre con te tutti i giorni devi avere se hai un dubbio devi averlo lì perché tendi a ricordarti le cose che ti sei dimenticato una volta e sei andato a cercare sempre è uno sforzo mnemonico non indifferente in questo caso per me è più semplice perché l'ho scritto e quindi comunque so di che cosa sto parlando e i momenti però comunque alla fine sono spesso spettacoli due ore devo parlare tanto non so sono convinto che la memoria sia un muscolo come tutti i muscoli va allenato in più come mi è capitato spesso di dire ho perso mia madre per l'alzheimer quindi io faccio tutto quello che posso per allenarlo per allenarlo ho paura di perdere identità che non è una parola che mi piace dire però rende lì la utilizziamo e poi comunque l'allenamento quindi la preparazione per qualsiasi cosa sia sportiva che non sportiva assolutamente non garantisce mai al cento per cento il successo ma comunque ti pone è come pensare che i grandi scrittori si alzino e comincino a scrivere che tanto la scrittura arriva che sei un fenomeno no bisogna stare lì bisogna stare lì l'ispirazione non c'è tutti i giorni la devi andare a cercare e scrivi non a comando non è che tu sei siccome sei un grande scrittore allora le cose vengono non ho mai scritto un libro in realtà però immagino ho sentito tanta gente al festival della letteratura grandi scrittori dire voi immaginate che per noi sia tirar fuori e vai lì e non è così ok non è così e ci credo anche i più bravi fantasisti che abbiamo visto sul campo da calcio comunque dedicavano la loro intera vita nonostante il dono del talento che allenavano effettivamente per poi performare come performavano il calcio è il meno sportivo degli sport tanta gente dello sport ritiene i calciatori non tanto atleti si allenano pochissimo in confronto altri sport pensiamo all'NBA beh lasciamo perdere l'NBA ma in generale tutti gli sport allenano tanto il calcio fanno niente niente a confronto niente fanno dei richiami atletici ci sono allenatori che li fanno allenare un ora un quarto al giorno poi con la carezza dopo la corsa molta gente del resto dello sport non li ritiene dei grandi atleti e quindi hanno più facilità rispetto ad altri sport di poter improvvisare perché la componente atletica incide meno il lavoro fisico incide meno durante la settimana e hanno il vantaggio io credo tutti gli sportivi ma i calciatori in particolare di rappresentare un'arte della contemporaneità questa è l'Argentina nel 1920 i giornali sportivi argentini trattavano i calciatori come se fossero degli artisti come dei ballerini dei cantanti degli attori dei musicisti loro erano artisti e io sono d'accordo sono artisti e a differenza di altri solo i musicisti sono comparabili perché non c'è bisogno di niente il suono e il gesto non hanno bisogno di traduzione tu puoi sempre essere compreso in quello che stai facendo a qualsiasi latitudine io ho visto partite di calcio nella giungla birmana perché uno aveva il satellite e mi ricordo che c'era Ronaldinho al Milan e quindi lui faceva pagare di più le partite del campionato italiano perché c'era Ronaldinho ma ti assicuro nella giungla birmana ok in un posto dove sinceramente me lo sto immaginando proprio come c'era un grosso in paglia nella sabbia lui aveva il satellite e si vedeva bene una partita lui faceva pagare gli avventori no c'era Ronaldinho di dare un po' di più e allora via va bene per Ronaldinho che bisogno c'è allora vuol dire che tu puoi arrivare in Birmania perché il gesto è comprensibile da tutti la musica è comprensibile da tutti se già canti reciti o comunque esprimi in una lingua non sei più comprensibile da tutti sei immaginabile ma i calciatori i sportivi i musicisti no arrivano sempre arrivano sempre tornando allo spettacolo e anche ai protagonisti dello spettacolo abbiamo detto Cesarini Siguri Diego Maradona ovviamente poi tracciando questa timeline in testa abbiamo proprio Diego Messico 86 tutta quella tutta quella tutta quella storia lì sono giocatori che hanno vinto in Italia perché sono tutti e tre hanno Cesarini è integralmente italiano Siguri è integralmente italiano ma è nato in Argentina Diego è metà italiano metà indio guaranì quindi comunque sono tutti italiani almeno per una parte tutti giocati in Italia in tre fan dieci scudetti esatto che comunque non sono nemmeno pochi hanno vinto ma hanno anche perso mi hai menzionato prima anche solo il gesto dell'esclusione in quel momento lì del mondiale quindi vittorie sconfitte volevamo chiederti sintetizzando un po' da questo preludio che ho fatto qual è il valore terapeutico della sconfitta e cosa definisce una vittoria beh viene sempre il soccorso Mandela posso fare un escurso su Mandela? assolutamente sì questo periodo c'è una parola costantemente utilizzata che è terrorista o terrorismo io vorrei ricordare a chiunque ci sta ascoltando in questo momento che Nelson Mandela era considerato un pericoloso terrorista che per Margaret Thatcher e Ronald Reagan doveva pendere da una forca ha ucciso a sangue freddo è stato condannato teoricamente doveva essere condannato a morte ma con un'auto a ringa di dodici ore fatta da lui solo da lui senza che nessuno avesse scritto una parola terminata con la frase io rifarei tutto dall'inizio ottenne l'ergastolo che stava scontando in un carcere in massima sicurezza a Robben Island cioè di fronte a città del capo poi le storie cambiano però perché quando cade il muro di Berlino improvvisamente gli Stati Uniti e l'Inghilterra non hanno più dato sostegno al Sudafrica che a quel punto comprende che non potranno continuare con l'apartheid a lungo quindi presidente Bota no perché questo era veramente troppo difficile dal punto di vista relazionale con Mandela perché tante volte hai detto dai di qualcosa che sei un pentito e così e ti facciamo uscire no allora quello che è succeduto a lui De Klerk è l'uomo che tecnicamente ha aperto la cella di Nobel e entrambi hanno vinto il premio Nobel poi improvvisamente Mandela diventa il simbolo della libertà nel mondo e il primo presidente africano del suo paese com'è facile passare da uno che doveva pendere da una forca a simbolo di libertà primo presidente molto labile la distanza secondo me Mandela tra le tante cose di impatto che ha detto ha detto che io non perdo mai perché o vinco o ho imparato qualcosa e direi che è perfetto perfetto quindi per riassumere proprio il valore effettivamente della sconfitta della sconfitta c'è qualcosa secondo te che definisce invece un vincente una vittoria più che altro il concetto di vincere talento mentalità tempismo no io direi che ovvio che senza delle doti non vai da nessuna parte però se tu prendi tutti i grandi della storia dello sport che hanno vinto e vinto tanto hanno tutti la stessa componente ossessiva e cioè vincere un'ossessione non ci si abitua mai ti faccio un esempio che mi capita spesso di fare perché Kobe Bryant è sveglio l'11 settembre del 2001 alle 6 del mattino perché 9.01 di New York sono le 6.01 di Los Angeles perché è sudato perché non è in grado di dormire al mattino se pensa che sulla costa ci sia uno che si sta allenando per batterlo questa è ossessione nello stato puro Carlo Ancelotti mi dice Cristiano Ronaldo quando tornavamo dalle trasferte calcolando che il centro tecnico del Real Madrid è un chilometro e mezzo dall'aeroporto arriviamo all'una e mezza beh tutti hanno il classico day off o la mezza giornata tutto fare che è venuto a prenderli in aeroporto e li porta a destinazione lui no ce l'ha il tutto fare ma non va a casa va al centro tecnico dove semplicemente con le impronte digitali tu accedi e si fa 45 minuti di ghiaccio ok allora il commento di Ancelotti e a casa c'era Irina che non so se è presente quella discreta modella è figiata in questi giorni a Milano da varie parti perché lo fa? perché se lui fa ghiaccio la notte della partita il giorno dopo può cominciare ad allenarsi come se non l'avesse giocata perché la parte infiammatoria se ne va quindi per fare 50 gol alla stagione tu devi fare così e questa è un'altra fase ossessiva potrei andare avanti con 100 casi di ossessivi dello sport direi che c'è una cosa che li tiene assieme l'ossessione l'ossessione della vittoria che è quella che poi effettivamente ti fa fare cose che nemmeno penseresti mai di fare allora io non sono bravo come te quindi alcune citazioni non me le ricordo a memoria quindi questa la leggerò per poi introdurre un'altra dire mai una frase come io non sono bravo come te non si dice no non ci si non si dice la pensi ma me la tengo ok se stai paleggiando con Diego Armando Maradona me lo posso permettere me lo posso permettere ma se siamo a due microfoni no non possiamo non me lo posso permettere se lui è lì che paleggia devo dirti sì allora comunque io continuerò il mio allenamento della memoria come il tuo allenamento della memoria è una citazione di un regista che è Giorgio che dice tra continui rimandi e asimetrie temporali con le curve dinamiche delle vite dei protagonisti che ineludibilmente a un certo punto si collegano assistiamo alle gesta sportive di campioni senza età e io volevo prendere questa citazione per toccare non con puntualità ma più genericamente il tuo storytelling di alcuni sportivi in generale che che hai raccontato e che hanno fatto parte della nostra vita della nostra società che hanno cambiato effettivamente il loro gioco il loro rispettivo gioco e notiamo che nei tuoi storytelling ci sono due componenti ci sono molte componenti ma due componenti che comunque tengono in piedi una qualsiasi storia lo scorrere del tempo e gli eventi effettivamente tutto in queste storie sembra collegarsi perfettamente le storie di queste persone sembrano quasi concatenate perfettamente per poi farli arrivare dove sono arrivati sì quanto è importante quanto è stato importante anche per loro il tempismo ed è effettivamente sempre così scorrevole il percorso di qualcuno che cambia le dinamiche delle proprie situazioni e devi pensare però che c'è un tempo non so di un paio d'ore per raccontare una vita di una vita quindi per forza sei costretta a un minimo di circolarità assolutamente 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 un minimo di circolarità non ho mai avuto il problema di dover narrare una storia di cui io non fossi innamorato mi hanno sempre concesso una storia di cui ero appassionato che ero appassionato o che avrei voluto ascoltare questo cambia tanto mi piacciono di più le storie che iniziano e finiscono e perché così hai un'idea proprio della traiettoria del personaggio rifami il passaggio fondamentale di questa cosa le persone che hanno cambiato qualcosa nella nostra vita io non so se abbiano cambiato così tanto ti faccio una domanda io non so che frequenza tu abbia di cose che io ho fatto negli ultimi anni secondo te qual è la storia che mi sento dire più spesso perché la mia storia preferita è stata parto dalla mia che è Riva Riva sì anche la mia ma non valiamo ok pensa un'età un po' più ampia della tua ok quindi un target che possa prendere anche mio padre bravissimo prendiamo tuo padre che avrà 50 e qualche anno sì sì 60 e qualche anno è lui è il mio destinatario lui chi dice ci potrebbe dire Pelé no no ci vuole qualcosa di più evocativo ancora di più evocativo sì cioè non un perfetto hai bisogno di un imperfetto di un imperfetto best la George Best allora siccome l'ho sentita ma sai tantissime volte e alle volte dico scusami ma quanti anni hai eh 48 ma non hai neanche mai visto giocare ok di che cosa stai parlando ho capito il senso cose che ci hanno toccato che ci hanno toccato ma scusami non hai neanche visto giocare cioè non hai vissuto né la sua era né l'hai visto giocare ma perché è così attraente George Best la risposta nell'80% dei casi perché avrei voluto vivere come lui cioè uno che si è buttato via totalmente si è bevuto la vita ugualmente questo modo di stare al mondo al limite deve avere un fascino senza tempo non importa quanto vivo ma come vivo e io vorrei essere stato lui è incredibile è incredibile è incredibile però siamo 80 volte su 100 ti dicono George Best e io non ci credo ma poi mi spiegano tutti questa cosa qua e allora dice ok si fa un passo indietro sì allora continuando a parlare di tempo abbiamo sentito e letto che tu hai una particolare modalità di scandire il tuo tempo molto legato al calendario cinese no più che altro lunare lunare perdonami dove hai letto sta roba qua? sentita hai letto in un articolo di Sky sentita in un'intervista io mi muovo con così io sono un maiale l'anno del maiale volevo proprio menzionarlo volevo chiederti di raccontare un po' questa tua modalità di scansione io vivo in una casa che ho preso perché è piena di lucernari quindi io sto con la luna ok la luna è ha un fascino enorme su di me cioè sono un animale notturno e la luna in molti casi illumina quasi a giorno alcune parti della mia casa la luna è il simbolo dell'essere umano cioè quando tu prendi un vino ok e dici bello e questo vino è biodinamico e dici vabbè che sia buono no? assurdamente se lo bevi non capisci se è biodinamico assurdamente no nessuno lo capisce però quando ti ho detto è biodinamico vuol dire che l'agricoltore in questo caso il viticoltore ha seguito la luna cioè è la luna che determina che detta i tempi quindi lui ha seguito i tempi della luna per questo racconto per tante cose ma di fatto ti sta dicendo questo questa cosa qua sì incredibile che poi non ti cambia niente quando stai bevendo perché però ci sono delle particolarità come dire siamo più in contatto con l'evoluzione naturale della vite perché l'abbiamo raccolta con queste seguendo seguendo il ciclo della luna che valore ha il tempo nella tua vita determinante il tempo è è la cosa più preziosa che abbiamo l'altro giorno sentivo in un bellissimo film una frase oggi è martedì domani è mercoledì un giorno più vicino alla nostra morte tu non pensi così no anche perché c'è un patema addosso però lui dice mi guardo con la mia signora però ha ragione sì ha ragione e lei ci è rimasta ancora di più su questa frase il tempo è prezioso noi non ci rendiamo conto di quanto ne buttiamo via se ci volessimo se ci volessimo concentrare un po' sul fatto che il tempo è prezioso oppure ho sentito un'attrice italiana dire no ma la vita è troppo lunga che se infatti non è credo la figlia di Dario Argento no ma la vita è troppo lunga cioè è sempre così dipende come vivi un po' come George come George esatto sì allora per vivere come viveva lui i suoi anni sono bastanti sufficienti se tu vuoi renderla più orizzontale ti devi comportare diversamente però effettivamente non è tanto quanto l'hai vissuta ma come l'hai vissuta cioè non serve a niente vivere 15 anni e di più se in realtà non la riempi non la riempi è un concetto importante riempire la vita riempirla fare più esperienze possibile non so per esempio credo che nella mia vita il momento chiave della mia vita sia quando mio padre mi concede come premio di maturità di andare negli Stati Uniti nel 1978 all'epoca era un viaggio nello spazio e nel tempo adesso ma una volta era veramente un viaggio così se io non avessi fatto quel viaggio che si deve a lui io non avrei vissuto la vita che ho vissuto cioè è quell'esperienza lì che mi ha permesso di pensare in un altro modo perché se tu vai là ti rendi conto che la vita che stai vivendo qua è molto molto inferiore alla vita che potresti vivere vivendo più spazio più tempo più intensità che potresti vivere là quello è un imprinting fortissimo e poi la tua vita da lì in poi è condizionata ad aver fatto quel viaggio quella cosa lì è il mio Cristoforo Colombo essere andato negli Stati Uniti effettivamente nel 1978 e quindi l'idea del tempo è sempre con me continuamente io scandisco ogni secondo del tempo per me ha un valore enorme il tempo spero di essere amico del tempo speriamo tutti in qualche modo che contemporaneamente sia clemente ma ci ricordi anche effettivamente che va avanti e quindi mandandoci dei piccoli reminder ci ricordi che il riempimento effettivamente della vita è molto importante e mi hai parlato dei tuoi viaggi e adesso vorrei parlare di Fili Rossi perché raccontandomi inizialmente lo spettacolo hai parlato mi hai detto ho cercato di trovare dei collegamenti tra di noi tra di loro l'Argentina l'Inghilterra e proprio tra loro tre e inizio anzi dai Fili Rossi qual è stato se non riesci a identificare il filo rosso della tua vita in tutti i tuoi racconti identifici sempre un filo rosso dei protagonisti io ho bisogno di avere cioè io devo vivere in un posto che sia armonico per me cioè quindi per esempio per me sono fondamentali casa mia è fondamentale perché ci sono pochissimi oggetti ci sono i muri alti c'è tanta luce e ci sono tanto legno questo su di me è armonico io posso se io sono in armonia posso provare a ricordare le cose se sono disarmonico non resta niente quindi ci sono delle volte dove io entro in una stanza d'hotel fai conto che in un anno io faccio non so 180 190 sere in hotel se il posto è armonico io non esco più fino allo spettacolo perché mi dà mi dà pulizia interiore conciliante conciliante bravissima è proprio centrato conciliante mi concilia mi riconcilia allora io scrivo quando sono lì perché in quel momento lì sono sicuro che sarò produttivo se il posto è disarmonico io non riesco non riesco meglio farsi una passeggiata o comunque ricercare un'altra parte ricercare armonia vado in un caffè mi prendo un americano qualcosa col cioccolato di cui sono totalmente dipendente scrivo così ma non mi viene uguale a quello che farei nella stanza se fossi in un luogo armonico quindi possiamo identificare l'armonia come effettivamente il filo rosso della tua via cioè se io sono in un contesto armonico il mio sistema produce se sono disarmonico o per colpa mia o per la circostanza di dove sono il mio sistema non produce io sono totalmente d'accordo perché a me intera sono molto tutti i discorsi che hanno l'energia l'energia che mi danno le persone che mi danno i luoghi e sono molto anche questa è una cosa fondamentale vai in giro per il mondo a cercare luoghi energetici questa è una cosa che ti cambia la vita ti faccio l'esempio proprio più forte che mi sia successo ce ne sono tanti perché a me piace andare in luoghi energetici a Sedona in Arizona ok lì proprio ci sono questi campi magnetici ti assicuro che cominciavo io a sbandare tanto è forte l'energia che c'è in quel posto lì ce ne sono tanti Borodubur in Indonesia una roba impressionante tu capisci solo dopo perché hanno messo lì qualcosa cioè è un macciu picciu cioè dici ma perché sono andati fino lassù ma chi glielo fa fare cioè si deve andare già il Perù è in alto vai ancora più in alto metti una città lì poi quando vai lì dici ok perfetto aveva senso vuol dire che qui hanno intuito che ci fosse qualche cosa perché il gange va nell'altro senso cioè a Benares il gange va nell'altro senso perché che corrente energetica si crea c'è l'intorno vada come dovrebbe andare poi gira e se ne va da l'altra parte come fa perché e quindi qualcuno ma stiamo parlando di centinaia e centinaia di anni fa ha detto no 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 qui c'è qualcosa dobbiamo fare qualcosa e quindi tu devi andare a cercare perché ce ne sono dappertutto e lì veramente porti a casa qualcosa anche perché poi contemporaneamente adesso sto imparando ad ascoltare questa cosa qui quindi questa energia e capire anche quando sto in un posto che mi dà un'energia negativa e quindi mentalmente prepararmi bravo bravo secondo me è così che si può stare al mondo se si può farlo sì 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 è tutto il lavoro di poi anche lì mi sto allenando mi sto allenando molto e mi hai parlato di un po' di luoghi del tuo viaggio in America e volevamo farti una domanda volevo farti una domanda ma voi siete un team sì vogliamo vogliamo anche perché colgo un secondo l'occasione per salutare il ragazzo che doveva stare al tavolo con noi che purtroppo vedi anche facendo una metafora sportiva ha subito un infortunio un tendon da kill che come Beckham quella volta lì si è staccato e che adesso purtroppo ci ascolterà ma voleva essere che noi e chiaramente ha scritto Andrea adesso gli scrivo qualcosa grazie mille quindi i viaggi luoghi mi hai raccontato un po' di viaggi che energicamente a livello di armonia ti hanno colpito altri luoghi cruciali per la tua vita come lo è stato l'America quel viaggio in America Londra 16-17 cioè quando vedo dei ragazzi che a 10 anni sono portati dai loro genitori in giro per il mondo e ne vedo dappertutto ne ho visti anche qualche mese un mese fa a Tokyo io mi domando ma perché li portate a 10 anni sinceramente vabbè che hanno il loro cellulare in mano che quindi sarebbe come stare a casa per certi versi ma cosa capiscono del luogo che vedono io ho sempre pensato che mio padre mi aveva fatto un grandissimo regalo dicendomi in Europa giriamo insieme fino ai 15 anni poi fra un po' vedrai che potrai andare in altri luoghi all'inizio ti aiuto poi dovrai fare per conto il tuo secondo me ci vuole una progressione per arrivare a quello che vedrai a quello che conoscerai in relazione agli strumenti che hai a disposizione far vedere New York a un bambino di 10 anni secondo me è inutile è inutile sinceramente allora c'è una progressione per me la progressione è stata quando mio padre mi ha detto guarda non ti do granché però abbiamo una persona che conosciamo a Londra vai e io ho fatto quindi due estati due mesi di agosto consecutivi diciamo 10 agosto 10 settembre perché poi inizia la scuola ok quei due anni di Londra hanno preso il giovane Federico Buffa e l'hanno fatto diventare un'altra persona perché tu non hai soldi in tasca quindi sono andato persino in cantiere io mi pagavano per non venire praticamente ho fatto varie cose pulivo i piatti dai croati ma quelle piccole cose da un punto di vista tecnico sono gli unici anni in cui ho lavorato nella mia vita però comunque va bene così tu non hai soldi non ce ne hai hai un budget molto basso limitato non ci sono le carte di credito c'è niente cioè le sterline in tasca quindi devi fare delle scelte che cosa scegli di fare tu? fai conto di essere un sedicenne italiano e all'epoca non è veramente voi non avete idea di quanto fosse difficile perché tu puoi comunicare cioè non è che ti arrivano i messaggi no sei per conto tutti se ti succede qualche cosa prima che lo sappiano a casa ne passa di tempo potrebbero non vederti mai più sì allora il mio sedicenne ma anche il mio ventiquattroenne forse pagherebbe per accedere in luoghi dove posso entrare a contatto con più persone possibili ok cioè andare ai concerti concerti però costano concerti ma più che concerti costano molto poi lì c'è una cultura musicale non possiamo permetterci non ce lo possiamo permettere quel Federico là non potrei permettere non possiamo non arriva in vaglia da casa non hai la carta di credito di nessuno no hai in tasca un budget quotidiano di circa 20 sterline quindi tolto la parte di assicurarci dei pasti eh sì però attenzione i pasti sono i veri sacrificati oh certamente quindi tu vai nei peggiori posti possibili assolutamente a mangiare un pochino di proteine perché comunque sono quelle che poi parli con uno che fa un pasto al giorno quindi allora eri perfetto però esatto pasto con delle proteine e un po' di cioccolato alco scordatelo e praticamente tu fai due piccoli pasti al giorno devi mettere un po' di proteine un po' di cioccolato fine perché dobbiamo risparmiare lì quindi fai conto che andando in posti tu non sai neanche la carne che t'hanno dato non lo vuoi sapere non lo vogliamo sapere non lo vuoi sapere restano più o meno 15 sterline e che ci fai? che facciamo? guarda che sei a Londra eh però Londra quando tu arrivi e non è che io venissi da da un posto perso in montagna vengo a Milano certo giriamolo cioè prendi la rivista di allora che c'è ancora adesso trasporti forse è esatto è time out che ancora adesso c'è però all'epoca era la Bibbia tu sfogliavi e tu guardavi cosa c'era ogni sera quindi se non c'era una partita di calcio perché io andavo in tutti gli stadi di Londra uno spettacolo teatrale sapendo che se arrivavi all'ultimo minuto avevi la possibilità di fare quello che in Italia si chiamava ingressi quindi ma tutte le sere così così quindi selezionare cose che cosa te ne frega di mangiare assolutamente niente mangia poco ma nutriti di cose che sono fantastiche e quindi quei due anni lì mi hanno fatto capire che quando stai viaggiando con un budget basso comunque non devi sacrificare le tue passioni piuttosto non mangiare ma vai a teatro esatto poi nel mio caso è la musica quindi io avrei cercato però allora fai così a Londra non vai a un concerto che non potrà mettere il tuo budget salta però ci sono i pub dove suonano le piccole band esatto però c'è tutta quella scena fringe underground bellissima strepitosa di quegli anni lì diciamo che c'è un po' troppo punk per i miei gusti però ognuno c'è il suo l'uno c'è il suo ogni generazione ha il diritto di scegliere questa musica che vuole assolutamente dovrebbe essere scritto sul Duomo questo assolutamente assolutamente poi magari capiti in uno di quei pub dove per la prima volta sono i Beatles o gli Oasis se ti va di culo così eh capito lì esatto dopo aver seguitato tanti passi magari c'è il reward del colpo di fortuna insomma molto bello molto bella questa storia allora abbiamo parlato di viaggio vorrei parlare di compagni di viaggio e ne hai parlato della squadra del vostro spettacolo e durante la tua carriera il tuo percorso più il tuo percorso della tua carriera perché poi alla fine i compagni di viaggio non riguardano solo il lavoro assolutamente quali sono stati i compagni di viaggio da cui hai assorbito più ricchezza interiore intellettuale eccetera eccetera io penso il primo riferimento a cui tutti pensano Flavio tranquillo per quanto riguarda il basket ovviamente è troppo facile no beh Flavio non è neanche di una categoria allora partiamo da questo presupposto io sono il ladro di Bagdad io rubo ma proprio cioè ti frugo nelle tasche se posso io rubo proprio è un fatto di assorbimento tu vedi come fa uno è interessante se pensi che sia funzionale per te o non capisci ma hai la sensazione che ruba vai da lui da lei chiedigli qualsiasi cosa poi dopo ci sono anche delle dinamiche di natura professionale però io penso di aver imparato da più o meno tutti tutti poi ci sono casi limite tipo Flavio Flavio è uno che come il nostro maestro Aldo Giordani mica ti insegna dicendoti devi fare così e no lui lascia cadere una cosa e te la lascia raccogliere quindi è questo il sistema della trasmissione della della conoscenza un po' ma solo di pollicino che lascia perché sa che comunque te lo mette lì quella traccia è utile e fa il gesto di puoi prenderlo questo è un modo di fare Aldo Giordani il nostro maestro che era la voce del basco italiano in televisione negli anni 70 e Flavio più o meno fa questo a un livello diverso però così e quindi tu rubi ma poi lo ascolti sei lì e ascolti poi una persona che mi ha insegnato un sacco di cose è Guido Bagatta Guido Bagatta è alla mia età siamo stati negli Stati Uniti insieme per motivi diciamo professionali e lui mi ha fatto vedere come si girano gli Stati Uniti se sei un italiano quindi come si noleggiavano le macchine come si fanno questa questa quest'altra cosa e perché lui c'era già stato per sei mesi mentre io ho stato soltanto un mese e mezzo la prima volta lui era già stato più di me e la prima volta che siamo stati insieme mi ha fatto vedere perché i primi viaggi sono autostop in questi giorni per esempio mi ricordo che io sono stato per vedere una partita di Coppa Korach in un posto che in questi giorni sta pigliando tanti di quei razzi perché era un kibbutz praticamente al confine con il Libano e ogni questi giorni io ci penso ma Federico ma ti rendi conto che cosa hai rischiato quella sera lì perché non c'erano più i bus per tornare gli autostop e quindi sono tratto e io sono stato preso da gente che comunque che mi ha fatto delle brutte domande dove io ho pattinato nello spazio come Carolina Costner nella migliore delle sue esibizioni ho cercato contavo speriamo di finire presto questo passaggio più un altro diciamo in un mondo che ti accorgi ha una tensione spaventosa ce l'ha sempre avuta e quindi ogni volta che vedo guardo quanto fosse distante il kibbutz da lì dico e alla fine invece Guido affittava la macchina e diceva veramente si può fare e quando mi sono accorto quanto era facile fare negli Stati Uniti che era una roba veramente incredibile in un secondo ce l'hai ho pensato che allora io avrei girato negli Stati Uniti e quello che ho fatto quindi Guido mi ha insegnato come si faceva poi io ho fatto anche 45 giorni consecutivi la prendi a New York la riporti a New York in condizioni che tu non vuoi sapere ok non importa non importa però fai giri tanto gli Stati Uniti soprattutto quelli del sud che sono veramente difficili e l'altro giorno stavo intervistando Paolo Egon ok impressionante anche perché è bionda adesso sono 1,94 bionda veramente io ho lavorato tanto con atleti afroamericani però sta qua ha veramente un'aura un po' particolare e quindi mi sono messo nei guai tantissime volte nel sud degli Stati Uniti ho rischiato la vita almeno 4 volte come minimo però però secondo me è l'unico sistema allora stavamo parlando prima di fare l'intervista sulla questione essere tu improvvisamente la minoranza essere l'unico bianco in 15 chilometri quadrati e avere la sensazione quando il punto di vista magicamente si ribalta si ribalta io sono finito in situazioni del genere decine e decine di volte al sud non ho mai avuto un problema lì ho rischiato la vita in altri contesti ho rischiato la vita perché da stupido sono stati in motel da 12 dollari e gli Stati Uniti hanno troppe armi da fuoco e c'è un sistema che conosciamo che vediamo nei film e non nei film nei telegiornali che è anche peggio nella realtà e ho rischiato per nessun motivo ho rischiato per nessun motivo perché beh dai 12 dollari che sparerà mai no 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 già sono pericolosi di loro se poi te lo cerchi il pericolo perché sono buttato dalla metropolitana in corsa a Chicago che è una roba da non fare cioè per quale motivo perché 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 mi stavano ah proprio volevano uccidere io ero convinto che cercassero di uccidere ma io non sapevo perché oppure chiarmi tanto quindi la metropolitana era stava per chiudere io mi sono buttato ma in quel momento partiva partiva e io sono caduto ho preso anche un brutto colpo in testa contro una panchina metallica però sono convinto di aver fatto la cosa giusta in quel momento è lì per l'istinto che è lì per l'istinto incredibile e quindi cioè perché siamo finiti in questi posti perché abbiamo parlato di compagni di viaggio e tutto questo per Guido Guido non avrebbe fatto certe cose almeno credo però la gente che ti insegna come si fa come si deve dirlo come bisogna approcciarsi quelli li fanno e poi si interpreta comunque adesso in teatro ovviamente ho i nuovi maestri tanto che la distanza qua è troppo ampia ampia perché queste gente che è stata in teatro 40-45 anni mentre io sono un abusivo da 6 quindi la distanza non è colmabile però sono gentili nel senso che non mi umiliano tranne una volta madonna una volta mio regista a Cagliari ho dimenticato un pezzo dello spettacolo e lui mentre eravamo a cena mi dice senza fare un riferimento diretto ma perché se si sbagliano delle cose magari in questo momento anzi essere qui a cena e bere bollicine si è in teatro a provare ancora e tu gli hai detto e io beh no era chiaramente rivolto a me e e ho capito che lui insomma ti stava dicendo che i vuoti di memoria in scena possono succedere vediamo di non farli succedere più ok così diciamo così in quei casi come un po' in campo l'istinto della giocata l'improvvisazione è una cosa a cui cioè che tieni vicino a te o che cerchi di scansare in dei momenti se non hai la possibilità di improvvisare è bene per te ma ci sono delle volte dove sei costretto a improvvisare per esempio un vuoto di memoria e lì non fa niente e che si fa hai bisogno di complici per esempio il pianista si è accorto che tu non ti stai ricordando e quindi ti dà ti dà l'accordo no 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 ti segui e tu sai che devi riempire con qualcosa e vediamo allora abbiamo parlato di Mandela che tra l'altro mi ha evocato quel film bellissimo Invictus che effettivamente racconta in una maniera lucida lineare emotiva quello che hai raccontato tu prima abbiamo parlato di Best di Brian tutti i simboli e io volevo chiederti che importanza hanno i simboli nella tua vita il simbolismo in generale e anche l'iconicità guarda io non sono particolarmente religioso ma sono straordinariamente attratto dalla spiritualità dei popoli del genere umano in generale quindi in qualsiasi viaggio vado alla ricerca del simbolo il valore enorme del simbolo è molto molto presente nella mia vita la spiritualità mi attrarre molto più della religiosità hai un simbolo che in qualche modo a cui sei più legato perdonami io sono un nippofilo quindi ho tanti simboli che vengono dal mondo giapponesi bello allora tra tutti i protagonisti delle due storie anche delle storie di ognuno di noi a cui ci siamo appassionati e che molto spesso sono vincente anche se i perdenti poi sono molto affascinanti ovviamente preferisco i perdenti anche io per no ma dal punto di vista drammaturgico non c'è storico esatto assolutamente queste persone trasudano carisma che è un concetto a cui sono molto legato perché è una cosa che assorbita o comunque percepita è una cosa incredibile quando io ho visto passando Ibraimovic anche solo per strada Maldini papà io sono milanista quindi per me sono quelli le reference però senti qualcosa addosso Maldini è una belva senti qualcosa addosso è una roba che Maldini fa veramente paura quanto è importante riusciresti a dare innanzitutto una definizione al carisma quanto è importante il carisma nell'ambito sportivo e non è una cosa che si allena o ci nasce no proprio gli esseri umani carismatici nascono così nascono così nascono così è un mix adesso poi viviamo in un mondo dove bisogna ingombrare lo spazio ci sono degli ottimi allenatori di calcio che non allenano mai una grande squadra perché sono troppo piccoli non ci credo non ci credo no è quello che io ho pensato fidati che tu non puoi essere troppo distante nel look dai tuoi atleti perché se no il club concepisce una discrasia tra questo e quello una volta nessuno avrebbe fatto un aggiornamento di questo genere invece oggi si fa il club lo fanno conta molto anche che presenza hai perché da quello deriva tanto altro cioè ti sarà capitato di sentir dire da qualcuno ho bisogno di sentirmi alto e non lo sono farò qualsiasi trucco possibile per essere più alto perché oggi non puoi più permetterti di essere basso una volta questo problema era relativo anche perché gli italiani erano piccoli e quindi ci sono tanti aspetti che hanno a che fare col carisma che precedono il carisma la fisicità è uno Maldini è una cosa pazzesca senza senso Maldini è una cosa che non perché poi Maldini proprio me l'ho raccontato una volta anche che io ero a Terran e stavano facendo c'era un spettacolo teatrale con lui protagonista cioè il personaggio persiano si chiamava Paolo Maldini me la ricordo quella aneddota me lo ricordo e io non ci credevo no 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 è talmente evidente che loro sono degli ariani circondati da popolazioni semitiche che loro sulla loro parte ariana vanno e tu sei il perfetto eroe ariano quindi a tutte le latitudini in più sei un grande calciatore figurati ti ha messo dentro la roba non credo che abbia anche se il permesso no no assolutamente Paolo è l'Achille omerico dell'Iriade Paolo è Achille è Achille cioè va bene così Paolo è Achille assolutamente c'è proprio questa c'è proprio questa roba qua abbiamo parlato di sconfitta e di sacrificio e il sacrificio secondo me ti aiuta a superare l'ipotetica sconfitta che come ci hai raccontato prima e di cui abbiamo parlato è terapeutica sempre in qualche modo e ti viene in mente una sconfitta della tua vita che è stata molto terapeutica e da cui hai imparato quanto è importante il lavoro del sacrificio io ho un pessimo rapporto con i miei errori orrendo tutti i terapeuti che ho avuto sulla vita mi hanno detto senti dovresti perdonarti un pochino di più soltanto due dieci giorni fa ho rotto il decanter del vino e ne vai a comprare uno domani Federico non c'è nessun problema non c'è nessun problema no no perché ho commesso un errore e ho rotto un bel pezzo di vetro e non per quattro ore io non connetto col mondo quindi le sconfitte ce le ho tutti i giorni tutti i giorni c'è una sconfitta e alcune però sono più importanti di altre assolutamente lasciano più segni tantissime tantissime tutte le volte che mi sono comportato magari in maniera superba e gli eventi ti dimostrano che non hai nessun diritto di essere superbo tutte le volte che sono stato superficiale e non conviene esserlo tantissime volte in cui ho sopravvalutato una cosa che pensavo di poter fare e non ero in grado non sono necessariamente delle waterloo ma sono sconfitte della tua quotidianità che incidono tanto assolutamente assolutamente abbiamo un'ultima domanda e un brevissimo un brevissimo gioco sui tuoi periodi di vita e l'ultima domanda è sulla responsabilità perché chiaramente quando soprattutto un ragazzo ma anche un adulto in realtà diciamo prima hanno delle icone dei riferimenti in qualche modo si tende a dire che questi personaggi così esposti motivo anche perché abbiamo fatto quel discorso sui club sui club che hanno delle persone che li gestiscono in determinato modo quanta responsabilità anzi cosa pensi su questo discorso cioè queste persone qui hanno una responsabilità rispetto a quello che hanno dato alle persone che danno alle persone partiamo da questo concetto che secondo me è fondamentale la responsabilità è quella che divide le ragazze dalle donne i ragazzi dagli uomini cioè è quando tu sei in grado di rispondere a te stesso all'esterno dei tuoi comportamenti che passi da ragazzo a uomo da ragazza a donna e vale per tutte le età nel senso che mi capita di vedere uomini che sono ancora un po' troppo ragazzi donne che sono ancora un po' troppo ragazzi cioè che la responsabilità è considerata un fatto secondario invece tu devi rispondere di quello che fai e prima impari a rispondere di quello che fai secondo me prima cresci assolutamente quindi se tu invece mi stai facendo una domanda sul cosiddetto role model cioè se tu sei così influente nel mondo quello che dici fai pensi può incidere sulla vita di persone devi stare attento sì assolutamente sì mi ricordo molti sportivi sportivi degli Stati Uniti di dire perché perché devo rispondermi io sono questo non chiedo a nessuno di seguirmi però mi comporto così però in realtà no è più fondamentale invece questo se sei qualcuno che sposta nel tuo piccolo o nel grande universo allora secondo me rispondi anche di quello questa sulla responsabilità me la metto in tasca è una risposta che ma qual è? è sul campo c'è qualcuno che determina se sei un ragazzo o un uomo lì è il criminale questa me la metto me la metto in tasca allora prima del gioco ti rubo qualcosa io o ci provo perlomeno quando intervisti qualcuno mi raccontavi di Paolo Egonu qual è la cosa che deve per forza esserci all'interno dei tuoi ragionamenti con quella persona delle domande che fai affinché tu ti senta pieno a rapportarti con quella persona decide lui o lei cioè allora per esempio ho fatto un'intervista recentemente con un grande attore italiano Marco Giallini grande forte molto forte io ho visto Giallini una volta eravamo tutte e due in un ristorante ad Aosta lui faceva il commissario era lì per la RAI e noi facevamo lo spettacolo teatro c'è un solo locale che sta aperto la sera e si ritrova lì si mangia e si beve bene faceva l'intervista un uomo spettacoloso spettacoloso proprio una persona strepitosa olistica un uomo rinascimentale sa fare tantissime cose molto sincero cioè ti accorgi perché è così padrone dei suoi personaggi che siano grevi o lievi e padrone dei personaggi perché lui ha proprio tanta verità nel mestiere che fa allora nell'intervista hai piacere di vedere se riesci a far esprimere il tuo intervistato sulle parti fondamentali per lui o per lei poi ci sono quelli super ostici cioè Murigno è ostico ostico io credevo Paolo Egonu fosse ostica perché mi avevano descritto guarda che schiva può essere anche altera se non ha voglia se non ha voglia non ha voglia e io dico vabbè facciamo dopo tre minuti che era lì io ho preso l'ideale foglietto di domanda e l'ho buttato e ho passato buona parte del tempo a rincuorarla perché secondo me per strepitosamente dominante che sia in realtà Paola va sostenuta in questo momento della sua vita dove lei si accorta di avere di essere molto osservata di avere tanta gente che la segue però deve anche incontrare ostilità oppure difficoltà e gli strumenti non sono così facili devi svilupparli devi affinarli Murigno è di un'intelligenza spettacolosa dominante ma è molto manipolativo cioè ti porta dove vuole lui allora che cosa devi fare che lui ti guarda e dice fammi una domanda e veniva mi ricordo quella sera lì eravamo a Roma veniva da una brutta giornata diciamo professionale professionale ed era totalmente intrattabile mi stanno microfonando e io dico e qua si mette male oggi è dura oggi è molto dura bad game bad game allora gli devi fare una domanda ingaggiante e devi sperare che lui risponda allo stimolo cosa fa uno così questi personaggi super personaggi ti insulta ti dice una cosa allora ti fa chi ti ha detto questa cosa non era mio amico non era mio amico ok perfetto però dopo che te l'ha detto allora poi comincia a riconoscerti prima fatto di ricognizione se ti riconosce e poi va e lì è fatta beh fatta dipende sempre da lui step by step però quel giorno lì poi lui ha parlato un'ora e cinquanta senza sosta cioè ha raccontato un sacco di cose e quindi devi sperare che l'intervistato si fidi di chi lo intervista e voglia parlare di sé ma anche del sé non pubblico quello intimo privato che tendenzialmente poi agli occhi tutti si nasconde allora gioco e ci stringiamo la mano e chiudiamo la puntata seguendo la scansione la tua personale scansione temporale identificando quindi dei periodi immaginiamoci il te ragazzino il preadolescente l'adolescente l'adulto se ci puoi dare un gruppo musicale un film e un'icona sportiva che ti ha segnato a quel periodo di vita premesso che sono molto meglio adesso di come fossi a 18 anni perché comunque poi anche la cultura si costruisce vivendo no ma no ma proprio umanamente io proprio avendo questi cicli che mi accorgo di avere ho fatto il calcolo dei maiali che ho vissuto chiaramente ce ne sono buono brutto buono brutto buono brutto alternato alternato il problema è che adesso secondo me sto vivendo sull'abbrivi di quello buono ma ok se la progressione è quella degli altre volte si va periodi come tutto di che periodo ti vuoi parlare identifichiamo il ragazzino l'adolescente l'adulto allora la linea costante è il cinema ok c'era da ragazzino e c'era da adulto tanto la cosa che c'è sempre è stata è il cinema assolutamente e dei film quindi quelli che da piccolo avevano tante influenze su di te beh un paio di volte mi è capitato di parlare di Faster Posick e di Erasmaya io ho ancora a casa i negativi di una cosa di quel film che io vidi quando negli Stati Uniti quindi avevo 18 anni l'ho visto per la prima volta e devo dire che ha avuto un impatto enorme su di me infatti a casa mia ci sono tanti richiami a quel film poi sempre in quel periodo lì Robert Altman che era un registro americano è che aveva una capacità di affrescare le pellicole cioè tu anziché raccontare una storia ne racconti tante come in un affresco del Cinquecento cioè tu devi vedere tutto il film come devi guardare tutto l'affresco perché ci sono dei dettagli che sono qua là su giù e questo su di me aveva molto un senso potente poi c'è lo sport chiaro si va a momenti chiaramente io nasco ispirato dal calcio poi però dall'età di 14 anni io divento un baschettare quindi il giocatore della mia squadra del cuore a Milano che non è quell'altra l'Olimpia ma diciamo Flavio che invece è cresciuto tifoso olimpia mi ha sempre chiamato come si chiama tra tifosi straccioni straccioni tra tifosi avversari tra tifosi avversari sì ma in questo caso c'era troppa differenza di blasone so di tutto e quindi però intanto vincevamo tra noi e questo qua è il giocatore che si chiama Jura ed è stato lo straniero perché all'epoca ce n'era uno solo poi sono diventati due della mia squadra tra il 72 e il 78 però io lì mi sono proprio formato con l'amore per il basket per il basket sì e infatti non lo voglio vedere viene in tanti in Italia non lo voglio vedere adesso ok faccio fatica a vederlo proprio per questo coinvolgimento che caratterizzava un periodo passato per me lui è e poi dopo si cresce arrivano tante altre forme però lo sport e il cinema sono sempre state anche il teatro quelle cose e i viaggi sono le quattro cose che io ho sempre fatte e continuo a fare quindi dipende dai momenti i due viaggi più belli della mia vita Iran Peru e Cile ok che arrivano in periodi diversi ok il posto dove voglio andare più spesso Giappone ho avuto anche una signora giapponese non una ragazza signora e e adesso per esempio non ci andavo da un po' per via del covid perché se ti prendivano positivo dovevi stare lì e non nessuno può permettersi sono tornato adesso dopo che non andavo dal 2018 e ho pensato che tra passeggiare a 1800 metri in Alto Adige e stare invece in Giappone a 32 umidi mi rilassa di più stare in Giappone a 32 umidi perché vivo nel posto dove vorrei che tutto il mondo si comportasse come loro faccio un esempio tu non puoi usare il cellulare né in metropolitana né in treno e tu vedi gli italiani che là si comportano come loro ah certo perché seguono comunque tutto il filone ma loro non ti direbbero niente i giapponesi ti guardano ma non ti dicono niente però percepisci proprio l'influenza del gruppo che fa qualcosa il gruppo la pluralità distrugge l'individualità assolutamente la pluralità distrugge il beneficio dell'individualità e vedi gli italiani che improvvisamente è come quando non vuoi studiare ma vai in biblioteca con tutti gli altri universitari e alla fine qualcosina tiri su esatto e il tono della voce è sempre tenuto basso certo ma non perché vuoi tenere privato quello che vuoi disturbare quegli altri perché tu pensi che loro non abbiano voglia di sentire quello che pensi tu e viceversa e questo sistema funziona in più la stazione principale di Tokyo che si chiama Shinjuku in 30 minuti una volta tra le 7 e le 7 e mezza e poi tra le 5 e mezza e le 6 smaltisce Milano un milione e mezzo di persone dove tutti sanno dove devono andare metti Milano alla stazione centrale per per mezz'ora dove va ferma tutto questi qua vanno perché sono abituati a sapere che cosa devono fare e quindi per creare ingorgo no tutti vanno l'ordine e una scena che mi ha fatto impazzire un giorno non nasci in gioco nella stazione minore di Tokyo è salito un gatto senza biglietto un gatto senza biglietto quindi i treni giapponesi tutti assieme fanno 4 minuti di ritardo che è detto da un italiano siamo alla fantascienza veramente perfetto quel caso lì 4 minuti e 30 perché era salito il gatto allora il capotreno è andato a scusarsi con i passeggeri dice scusate facciamo 30 secondi di ritardo ha preso il gatto e l'ha portato giù c'è la foto del gatto che sale e di lui che lo porta giù e il problema qual è che il gatto è stato fatto scendere perché non aveva biglietto non perché fosse un gatto quindi il gatto senza biglietto e quindi ha fatto scendere e la mia domanda è ma il gatto poi dove è andato ha preso un altro treno cosa fa se ne è andato via o ha capito anche lui che non doveva stare lì non doveva stare lì non lo so però comunque tutto il caso succede in Giappone storia incredibile loro vivono con una sorta di senso un altro mondo un altro mondo Federico io ti ringrazio veramente tanto mi è stata rubata la lista degli appuntamenti dove troverete Federico col suo spettacolo la milonga del football ci abbiamo molte date però adesso non me le ricordo chiaramente perché il foglio sta lì perché glielo lasciamo perché comunque è sempre utile ricordarsi dove si finisce lungo quello che è il tour ok almeno diamo la data di inizio che è il 21 novembre e la data di fine se ne aggiungeranno poi sicuramente altri immagino nel corso ce ne sono un po' più di quelle lì ma va bene esatto il 4 aprile stiamo registrando a Milano l'appuntamento milanese è il 26 e il 27 marzo al Teatro Manzoni dalle ore 21 ed è stato un onore incredibile per noi averti qua ma ti spiego perché sia per me che per Andrea con cui abbiamo preparato questa intervista e quello che è a casa vedere con i nostri rispettivi padri le tue storie era per noi un momento di famiglia con i nostri rispettivi genitori e quindi è importante è stata una cosa bella e ti ringraziamo molto e la puntata è finita questo è Stengast e andate in pace e andate in pace e rendete grazie a quello che volete sempre in totale libertà grazie mille Federico grazie mille